LUKE 4316 Sono fuori in terrazza di casa mia perché in casa c'è buio e ho messo la telecamera su quattro scatoloni perché c'ho il mio reggitore per cui salutiamo il mio reggitore mio cameraman scatolone e devo abbassare che se non mi vedo ragazzi purtroppo questo è lo spazio e dunque ragazzi abbiamo visto ieri scusate il traffico ragazzi ma non posso farci detto non ho attrezzatura per fare questi vlog seri in casa c'è buio ripeto c'è la luce strana e poi non c'è manco il sole oggi c'è poco sole infatti c'è gli occhiali Vabbè cominciamo allora lì abbiamo visto le ventole abbiamo visto il mouse la tastera e il tappetino per il mouse la vecchia scheda video via abbiamo detto cosa vediamo oggi allora oggi a qua tutto pronto abbiamo questa scatola qui non so se la vedete non so se la vedete ragazzi non so se la vedete vabbè comunque vi dico che si chiama lo scorpion mouse banger cm storm sempre scorpion è un andato lo apriamo ragazzi lo apriamo e vediamo che c'è chi 30 kiwi non so neanche io che cavolo è ragazzi non so neanche io ah ci vuole sempre oggi mi sono munito del coltellino ragazzi infatti ho preso il coltello nel video scorso ho fatto vedere un coltello mi hanno detto yuk però fai vedere un coltello ragazzi ho preparato oggi qualcosa di più semplice per aprire appunto queste scatole ok vediamo se riesco a farla uscire è uscito tutto ecco qua ragazzi il coltellino piccolo allora apriamo qui ah ma affanchiul non ci riesco porca loggia niente ragazzi sta cosa non taglia manco l'acqua ve lo dico mio allora facciamo così che cacchio è che cacchio è che cacchio è vi faccio vedere mi allora guardate è un robot che cacchio è ah ho capito che cos'è ragazzi ho capito sapete che cos'è è una fada che si mette sulla scrivania dove qui si infila il filo del mouse poi vi farò vedere quando è tutto costruito per tenere il filo del mouse in alto per non intralciare mentre si gioca nel gaming eccetera eh carino però è un ragno ok abbiamo visto questo qua poi che vediamo 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 oh oh le cuffie ragazzi le cuffie che proverò subito se riesco stasera magari vediamo le cm storm sonuts sempre della cooler master ragazzi le apriamo le apriamo subito subito vediamo se riesco ad aprirle senza usare il coltellino e voilà aia e voilà aia ok ce l'ho fatta ce l'ho fatta tranquilli tranquillisciatevi ok vediamo un po' come le son ah ma ci siamo mai non ci credo ci credo i ferretti neri ragazzi ma guarda te ma guarda te ok di qua ce ne sono 15 e ok ce l'ho fatta voi ce l'ho esci dentro ok queste sono le cuffie ragazzi togliamo questi affari togliamo questa qui guardate queste sono le cuffie gigantesche speriamo si sentino vabbè se sentire non mi interessa mi interessa il microfono ragazzi sapete che registrando qualunque youtuber guarda il microfono e non le cuffie queste sono qui queste qui per cui speriamo che il microfono si senta bene c'è sempre l'attacco USB no scherzavo c'è l'attacco per la scheda audio e il pulsantiere lì con il volume accende e spegne il microfono ottimo anche le cuffie della Sonitz comunque in descrizione vi metto tutte le cose messe bene poi cosa vi faccio vedere ragazzi non lo so il disseppatore il disseppatore per chi non lo sa ragazzi serve a far raffreddare il processore io avrei messo anche una cattola del ghiaccio ragazzi in frigorifero invece la Cooler Master sempre mi ha mandato questo dissipatore voilà il TPC 800 il TPC 800 nei minuti che vi dico le altre cose ragazzi che non so neanche io che cacchio vogliono dire vediamo un po' come l'è allora io so che questo qua non è a liquidi non va con la ventola ma è a vapore vabbè queste qua sono le cose per fissarlo allora vi faccio vedere qui e qui te lo chi eccitelo se riesco a uscirlo c'ha le cose che tagliano ragazzi ok vedete tre quintali e mezzo eccolo qui non so se lo vedete bene questo qua è il pezzo che fa raffreddare il processore ragazzi è tutto a vapore tipo un condizionatore tipo il frigorifero non so come spiegarvelo ed è tutto qui Cooler Master sempre Cooler Master sempre qua ci sono tanti pulsanti ragazzi perché accendi alza il volume abbassa il volume no scherzo non sono pulsanti ragazzi sono non lo so le cacchie sono e questo è il dissipatore lo rimettiamo via perché questo è delicato ok e ok ripeto non so i prezzi per cui non posso diceverli e ultima cosa vi faccio vedere oggi è l'alimentatore l'alimentatore perché senza l'alimentatore non possiamo alimentare tutto il pc ragazzi l'alimentatore si chiama il M2 Silent Pro da 700 watt M2 Silent Pro da 700 watt se volete vi apro anche questo se volete tanto lo devo aprire lo stesso ok aspettate ok c'è la gente che parla sotto ragazzi mi interessa ok ce l'abbiamo fetta ce l'abbiamo fetta ma non so come si apre però no scherzavo ragazzi arrivo mi appoglio un attimo qua intanto mi parlo tranquilli ci sono sta passando il tram vi chiedo scusate di tutto questo traffico come cacchie si apre si scappa porta roggia adesso la spacco ma vaffanculo si apriva così niente ragazzi si apriva per così io l'aprivo al contrario allora vediamo che c'è pesa 4 quintali e mezzo meno 4 allora ce la farò ragazzi tranquilli vabbè le istruzioni e questo è l'alimentatore tutta la tutta la mucchieria dei cavi per collegarlo all'hard disk e tutte le cose varie altro mucchio di cavi e questo ragazzi è l'alimentatore è anche bello esteticamente sempre dalla cooler master guardate sempre col ventilatore come al solito qui c'è l'attacco per l'alimentazione e voilà 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 questo è l'alimentatore bene ragazzi anche oggi vi ho fatto vedere un po' di roba ci vediamo nella terza puntata vi farò vedere cose un pochino più grossi un pochino più costose un pochino più di valore e vi dico che pollice in su al video se volete la continuazione il continuamento la continuità titimità da Luke è tutto ciao a tutti grazie